Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, è qua il football secondo Cree che vi parla, domani partitone contro l'Atalanta, altro che il dentista. C'è un pochino di quella apprezzione per andare a meno 12, ragazzi, meno 12 sono tantissimi, certo abbiamo una partita da recuperare, però sappiamo che il Milan quest'anno lo scudetto non lo vincerà mai. Però, dato che vorrei un attimino, almeno questa stagione, fare qualcosa di decente, dato che siamo nella mediocrità pitotale con Redbird, Cardinale e questa gente qua, cerchiamo domani di fare una grande partita, cerchiamo di non farci calpestare la testa dell'Atalanta, che è un'ottima squadra, ha un ottimo allenatore, ha un ottimo DS, ha un'ottima società, ha un ottimo presidente, ha un'ottima organizzazione, ha un'ottima comunicazione, ha un'ottima... Noi non abbiamo nulla di tutto ciò, a parte certe cose che stanno andando per il verso giusto. Però, parlando della partita, ragazzi, il Milan come può battere l'Atalanta? Il Milan può battere l'Atalanta giocando, innanzitutto, una partita con grande umiltà, perché loro sono forti, in questo momento sono più forti di noi. Regà, non prendiamoci per il culo, perché basta guardare la classifica, basta vedere come giocano e basta soprattutto vedere l'identità che portano ogni partita, perché è una squadra camaleontica, che non smette mai di giocare a calcio, non ti smette mai di stupire, è veramente un team unito, con delle secondrine importanti. Hai Quadrado, che ti porta esperienza, hai Samarzic, che ti porta qualità, hai Bellanova, che è una spina nel fianco sulla destra. Allora, attenzione a queste tipologie di giocatori qua, perché il Milan, poi, se va in pappa, prendiamo le pizze, eh? Se vuoi vincere, devi comportarti in maniera molto, ma molto seria. Seria, serena, con l'atteggiamento giusto, trovando subito la verticalizzazione. Il Milan cosa sta facendo ultimamente, come vi avevo raccontato nel video tattico di ieri? Il Milan è riuscito a trovare la quadratura giusta, soprattutto nel recupero palla e andiamo in verticale, perché il Milan cosa faceva nelle partite contro Cagliari, Torino, Fiorentina? Cercava di fare il predomino territoriale. Con questa formazione qua, con questi giocatori qua, con questo allenatore qua, quella tipologia di mansione non puoi farla. Quattro mesi e dieci giorni in Fonseca, per fortuna, l'ha capito. Quindi, come abbatteremo l'Atalanta? Come cercheremo di battere l'Atalanta? E secondo me il Milan ce la può fare, eh? Perché il Milan ce la può fare, regà. Non prendiamoci per il culo, facciamo cagare. Ma il Milan ce la può battere, sta cazzo di Atalanta, o no? Dai! Dovemo essere unici nella compattezza e forti nelle verticalizzazioni. Bravi a chiudersi dietro e forti nella transizione, perché il Milan è una squadra che deve mangiare di questa roba qui. Il Milan deve vivere nelle ripartenze, nei contropiedi, nelle transizioni fatte bene. Nella verticalizzazione. Il Milan non è una squadra che deve creare calcio e fare football come il Barca di Guardiola. Il Milan può mettere in difficoltà l'Atalanta perché ha giocatori con un motore devastante. Leao, Pulisic, Reinders, Loftus-Cheek. Sono tutti giocatori che hanno un motore bello pesante, una gamba presente. Sono forti se messi nella condizione giusta. Sono ragazzi forti, giocatori forti messi nel contesto giusto. Poi ovvio, li fai fare a questi giocatori qua e tiki-tacca, e passaggi così, e l'Emerson Royale che gioca in mezzo al campo. E quello che viene a scalare, il Milan diventa una menzogna di squadra. Uno perché siamo costruiti col culo. Due perché non hai giocatori che fanno, che hanno, scusatemi, quelle caratteristiche là. E quindi, poveri, li metti anche in difficoltà. Il Milan, come ha fatto nelle ultime partite, anche se abbiamo battuto squadre molto scarse, ha giocato con umiltà, con grande, come posso dire, divertimento anche nel trovarsi l'uno con l'altro. Il Milan contro il Sassuolo, certo, squadra scarsa, ma ha giocato a calcio. Il Milan contro l'Empoli, sì, squadra scarsa, ma ha giocato a calcio. Non abbiamo trovato solo uno o due volte in tutta la partita delle linee giuste per attaccare. L'abbiamo fatto dal primo al novantesimo. Difesa solida, centrocampo quadrato. Emerson Royale che si faceva ad aiutare da Musa, che a volte si veniva a staccare in mezzo al campo e riusciva a fare da perno con Fofanà, e quindi lasciava rendersela davanti a inventare, a giocare nello stretto, a calciare. Così il Milan ha trovato una similquadratura giusta per fare un campionato, non dico da scudetto, ma decente. Poi se la gente non vuole capire perché ha il cazzo nelle orecchie, va benissimo lo stesso. Però secondo me il Milan nelle ultime partite ha trovato quel sistema giusto per respirare dietro, cioè non fare un'aggressione uomo a uomo tutto campo ogni volta che una squadra avversaria ti viene ad attaccare, ma stare attenti. Chiusi a 5 dietro. Theo Emerson Royale con Musa che viene alle gare, con i tre difensori centrali forti di testa, perché sono comunque tre difensori centrali molto bravi nello stacco aereo, e con Fofana i renders che iniziano a trovare una quadratura in mezzo al campo per non essere sempre sforniti, perché c'è la mezzalla degli avversari che si butta dentro, perché hai il giocatore che si butta sull'esterno. Abbiamo trovato una quadratura, almeno nelle prime partite che abbiamo fatto da quando il Milan ha deciso di giocare così, un attimino decente, soprattutto con un filo logico. Chi non l'ha visto non vede calcio, ragazzi, non vedi niente, lascia stare. Perché se tu non vedi un Milan che è migliorato nella transizione, quando recupera il pallone in mezzo al campo, rompe la linea e andiamo in verticale, cambia sport, cambia sport. Il Milan ha vinto anche le partite con l'Atalanta, se ci pensate, intanto appoggio le gambe sopra il tavolo, contro l'Atalanta giocando così con Stefano Pioli. Mi ricordo un 3-2 l'anno dello Scudetto, mi ricordo il 2-0 l'anno in cui proprio vinciamo lo Scudetto in casa nostra con quel golasso di Teo Hernandez. Il Milan come ha giocato? In maniera umile, con entusiasmo, ma senza essere spregiudicata al 100%, e abbiamo inculato l'Atalanta. Perché l'Atalanta, se tu vai a beccarla e vai a riaggredirla in maniera forte, ma con un pensiero dietro e non facendo tutta la cazzo di cane, la puoi battere. Perché il Milan ha giocatori con un motore devastante messi in questo contesto qua di aspettiamo e andiamo in contropiede e non di giochiamo alla Guardiola e prendiamo le imbucate in mezzo al campo. C'è un pochino di differenza. Poi se la gente non capisce un cazzo di calcio, raga, è meglio lasciar stare. Stiamo trovando quindi forse una linea guida giusta. Forse. Ma non vinci il campionato così. Non vinci il campionato così. Ma puoi sicuramente puntare per il quarto posto o il quinto, se l'Italia anche quest'anno riuscirà a trovare la quinta posizione per la competizione europea. Ragazzi, questo è quello che volevo dire. Le parole di Fonseca oggi possiamo anche schipparle. Non ha detto niente di speciale. ha parlato di De Quetelar, ha parlato di Musa che giocherà. Ha detto che l'Atalanta è una squadra molto, molto complicata da affrontare, ma questo si sapeva già, non servivano le parole di Fonseca. E nulla, raga. Speriamo che il Milan non faccia la partita, diciamo, quadrata, giusta, consapevole delle proprie caratteristiche tecniche e tattiche contro le piccole, ma che faccia anche l'upgrade a livello tattico e mentale contro le squadre. Molto più forti e molto più attrezzate, come domani l'Atalanta. Ci sentiamo per il prossimo video. Ciao ragazzi!